Io volevo a questo punto portare la vostra attenzione a alcune questioni che sono sedute tra i pretenti e che però sono delle persone che ci possono essere, che non sono detentate, ma vogliamo anche sentire la loro voce. Sono il Dottorottico, che è il secretario dell'Associazione Internazionale dei Notari dei Artisti e la signora Maria, che abbiamo sentito, diciamo, astratti nei vari interventi, ma che è il presidente dell'Associazione Nonna e Nonni Penalitari dalle Separazioni e che, insomma, sicuramente, soprattutto sull'intervento, sono particolarmente vicino al ruolo dei cosiddetti ascendenti dove veste tutto valorizzato e che, nonostante la trattazione è positiva, la trattazione è la raffa, invece ne è addirittura una macchina. Quindi io volevo, innanzitutto, un applauso a queste persone che sono iniziare, diciamo, a fare un piccolo intervento. Piccolissimo, una vera e propria telegrafica di testimonianza. La mia associazione, Neomar, è nata all'inizio di quest'anno ed è nata soprattutto per il curso di persone motivate sull'impegno sociale. Mi avevano proposto di fare un'associazione culturale che si occupasse di arte, di scienza, ma mancato di impegno sociale. Io ho condizionato la mia partecipazione a questo aspetto, che è stato aggiunto, e ne siamo soddisfatti. E ne siamo soddisfatti perché, ad accordo a questo imprendimento, poi ci ha pensato il professor Sampaglietti, con la quale già nella primavera dell'anno scorso avevamo fatto l'Aula Magna del Citi Occhi di Roma, ed era stato un grosso successo al pubblico. Dopo il crino, per sapibilità, quindi ho participato a tutti i suoi conventi, ed è stato naturale, ma quella ci riguarda in prenazione, ma facciamo una volta all'anno. Per me è proporre due dei relatori prestigiosi di questo tavolo, cioè sia l'Avvocato di Radia, la professoressa Vicenza Paglietti, ho avuto il piacere di proporre con me una pedaglia d'oro per il loro impegno sociale, e una pedaglia con motivazione molto significativa. Comunque, poiché ho detto di solo la testimonianza, due flash, una sul tempo. Aveva ragione, la professoressa Vicenza, a dire troppo tempo, ecco perché lo slogan non è più un bambino. E mi è venuto in mente quella famosa lettera, donata al CCDU, al Comitato di Cittadini per i diritti umani, da Giorgio Faletti, una lettera di una signora spagnola che addirittura è pezzata, il 20 ottobre del 1897, scriveva al sicuro di Freud per dire «Abbiamo un bambino di cinque anni che ci fanno sperare, è la nostra gioia ma ne conviene di tutti i colori». Ha tagliato la cosa al cane, ha tagliato un baffo al nonno e lo ha anticipato con la cosa sulla volta a sinistra, sono venuto qui a trovarci due amici carissimi dalla Francia e quello li avrà fatto con le due loro bambini, gli anni pastriccianti di colore. «La prego, signor Freud, siccome so che lei è molto brava in queste malattie, mi mandi una pillola, mi suggerisco una pozione». Per fortuna Freud lo ha detto «per questo dondino, è la patroficazio». Ebbene, questo credo sia un precedente, è più di un secolo e mezzo, lottiamo contro questa, dunque contro queste violenze. È arrivato il momento, la professoressa Farnieri, di fare qualcosa per cambiare. Forse sarà difficoltoso dettare la gente al prossimo governo, ma cerchiamo di far approvare la legge della posizione del tribunale dei minori e cerchiamo di fare prima le pubbliche. È quello che dobbiamo fare sempre. Finisco con un paradosso. Voi sapete che in questi giorni il nostro governo ha sfuggito in pochissimo tempo, in poche ore, più di 800.000 euro per dare una cauzione alle autorità indiane e fare in modo che questi due maggiori tornino a passare il prezzo di Natale e quindi in Italia. Il Presidente della Repubblica li ha invitati al tribunale e si è anche conosco. Io sono standardizzato perché se tratti di due omicidi, hanno comunque ucciso delle persone e devono rispondere forse anche all'autorità italiana di un omicidi per i detenzionali che non più omicidi. Perché dico questo? Perché mi sembra paradossale che mentre 32.000 bambini non potranno trascorrere il Natale con i propri genitori, questi due soldati assassini avranno tutti questi preghieri.